la besciamella è una salsa madre base che accompagna tantissime pietanze e ne esalta il sapore è molto semplice da realizzare se volete una salsa vellutata e senza grumi basta osservare alcune regole volete sapere quali ci pensa natalia la besciamella può avere diverse consistenze a seconda dell'utilizzo che ne dovete fare io la preferisco un po più morbida ma ricordate che per una besciamella più sostenuta la parte liquida deve essere dieci volte il peso della farina e la farina deve essere lo stesso peso dei grassi si comincia dal roux scaldate il burro in un tegame o padella dai bordi alti una volta sciolto aggiungete la farina e mescolate per amalgamare bene gli ingredienti dovete ottenere un roux privo di grumi una volta pronto lo potete anche conservare in frigorifero da utilizzare come addensante di creme o salse per la besciamella versate sul roux il latte a temperatura ambiente un po alla volta e mescolate fino a scioglierlo completamente aromatizzate con sale e se piace noce moscata cuocete a fuoco dolce mescolando per circa 15 minuti in questo modo si cuocerà il glutine e scomparirà il sapore di farina cruda la besciamella risulterà stabilizzata e manterrà inalterate le sue caratteristiche nel tempo la besciamella è pronta la potete usare subito o conservare in frigorifero coperta per due o tre giorni se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale youtube se vi piace stare mia compagnia mi potete seguire anche su facebook instagram e sul mio blog